Buonasera, questa sarà poco più che una conversazione. La varietà di argomenti che girano intorno a questi concetti è tale che si affastellano un mucchio di cose in ambiti diversi, dalle particelle elementari alla cristallografia, dalla biologia alla chimica alla matematica, algebra, geometria, mare magnum. E quindi alla fine ho dovuto fare una scelta e la scelta è quella di un discorso che partendo da considerazioni di carattere piuttosto generali sulla simmetria e l'invarianza poi imbocchi un sentiero particolare in modo da arrivare se non altro a un risultato che chiuda il discorso in un cerchio, altrimenti la cosa sarebbe stata un'accozzaia di cose, di mondi diversi e di concetti diversi. Va bene, fatta questa doverosa premessa quindi, questa sarà una conversazione in proprio, tra l'altro ecco la mia scelta è stata quella dell'aggiunta del terzo vocabolo, perché avevamo parlato di simmetria e invarianza e la scelta di imboccare un sentiero particolare è consistita in questo terzo vocabolo, conservazione. Allora, il primo passo è capire che l'idea comune che ha l'uomo di strada della simmetria è quella che nasce da una definizione di vocabolario, una cosa antica che probabilmente è cominciata con l'osservazione dei fiori, delle foglie e della decorazione dei vasi di ceramica e che viene innanzitutto riferita a un singolo oggetto. Generalmente quando si parla di simmetria nel linguaggio comune si pensa che un oggetto è simmetrico e si pensa a una particolare forma di simmetria, quella del viso, quasi simmetrico, quella delle foglie, simmetrie di questo tipo, che sono sostanzialmente, ecco qui ci sono, non vi leggo quello che c'è scritto, lo leggete da soli, d'altra parte è scritto nel vocabolario. Poi il vocabolario tira avanti, tira avanti specificando qual è l'uso che si fa di questa parola in biologia, qual è l'uso che se ne fa in fisica e così via. Ma a noi importa capire che la prima idea è estetica, in un certo senso, per quanto riguarda la simmetria. Poi se uno va a scrivere invarianza nel vocabolario, purtroppo non trova niente, trova invarianza è la qualità di ciò che è invariante, vabbè, allora uno va a vedere invariante che cosa significa e trova questa significativa che non varia, che rimane invariato, non per tutti. Io ho già raccontato che mi sono trovato in difficoltà una volta in una riunione con degli architetti per una questione di edilizia, perché ce l'ho messo un po', non mi trovo, prima di capire che invariante significava l'edificio che viene cambiato o che viene aggiunto. Cioè l'invariante è ciò che viene aggiunto di nuovo. Naturalmente, siccome avevo nella mia idea, invece, tutta un'altra idea di invariante, non riuscivo a capire di che stavamo parlando, ce ne ho messo un po'. Come parola? Eh sì, ma loro dicevano invariante. L'invariante C, come l'invariante C? Come invariante? Lo stiamo mettendo adesso, come invariante? Invariante, che non varia. E quindi, ecco, invarianza indica una relazione rispetto a. Allora, andiamo allora su un terreno che è più propriamente scientifico. La simmetria, in generale, la possiamo definire come una trasformazione di punti dello spazio. In realtà, in quella frase, questo oggetto è simmetrico, quello che uno immagina è il poter dividere l'oggetto a metà, prendere un punto in una metà e trasferirlo con una legge appropriata dall'altra parte, e ricostruire così la metà che manca, che in qualche modo è data all'ora, ribaltando, ma con un'operazione di trasferimento, i punti che sono in una metà. Ma questo è solo uno dei possibili, una delle possibili trasformazioni. Quindi noi rifariamola in generale alle trasformazioni di punto dello spazio e, perché no, anche delle coordinate temporali, quindi coordinate spaziali o coordinata temporale, o, ma non ci arriveremo perché la cosa diventerebbe complicata, nello spazio a quattro dimensioni, spazio quadridimensionale, spazio-tempo, della relatività. Perché no? In varianza è una proprietà, invece. Faccio questa trasformazione e l'oggetto appare identico a se stesso, come se nulla fosse cambiato. Ora, quando noi facciamo una trasformazione su una figura geometrica, o comunque su un oggetto, e quindi in qualche modo è ancora una trasformazione di tipo geometrico, dobbiamo semplicemente ben definire la legge di trasformazione, ed è finita lì. Quando parliamo di invarianza, invece di una legge della natura, di una legge fisica, di invarianza rispetto a una simmetria, cioè a una trasformazione, non ci basta definire per bene la trasformazione, perché il problema diventa questo. Mentre la matematica è coerente in sé. La matematica è una nostra costruzione. Quindi se noi rispettiamo una serie di canoni della logica, ci dà un risultato consistente. Invece, quando passiamo nella natura, all'osservazione della natura, noi usiamo la matematica come strumento descrittivo e interpretativo. E ogni volta la domanda è, ma questo strumento che sto usando è quello adatto? Perché la natura se ne frega di quello che ho scritto io nei teoremi di matematica. Quindi, sto usando le proprietà giuste per una descrizione coerente? Il che non mette in dubbio se vale la matematica, ma se io sto usando lo strumento giusto per l'interpretazione. Allora, quando parlo di invarianza di una legge fisica, per esempio, non mi basta definire la trasformazione e certe proprietà matematiche. Devo essere sicuro che la cosa abbia senso. E quindi devo dare una definizione operativa di invarianza. Cioè, devo poter descrivere, almeno in linea di principio, che cosa farei per controllare che la trasformazione lasci invariante la legge. Prendiamo un esempio, tra tanti possibili, per capire meglio, l'invarianza per rotazione di una legge fisica. Allora, devo scrivere un esperimento. Devo dire, io ho qui un laboratorio. Ho qui un laboratorio, in questo laboratorio faccio questo esperimento per verificare che se è vero o non è vero, che cosa succede se. E faccio il mio lavoro in questo laboratorio. Accanto ho un altro laboratorio. Un laboratorio identico al primo, ma dove ho ruotato tutti gli strumenti di misura. Dove ho ruotato tutta la composizione dell'esperimento. Dove ho ruotato, forse altro, tutto quello che... Tutti i vettori, se ne avevo nella descrizione del primo esperimento, li ho tutti ruotati. E rifaccio lo stesso esperimento. E poi dico, se c'è un ricercatore nel laboratorio A che annota su un quaderno quello che man mano gli viene fuori. E ce n'è uno nel laboratorio B che fa la stessa cosa. E siccome hanno la copertina uguale, vengono scambiati i due tacquini, può uno dei due dire questo non è quello che succede nel mio laboratorio? Se non lo può dire, vuol dire allora che la rotazione non ha avuto nessun effetto. La legge che stavo verificando è invariante per rotazione. Ora, ci possono essere delle finezze. La vita può diventare più complicata. Per esempio, uno può dire eh, vabbè, ma che facciamo? Facciamo solo delle rotazioni mantenendo costante la direzione della forza di gravità. perché se sono accanto la forza di gravità è parallela e invece se volessi ruotare anche quella vabbè, vuol dire che devo andare con un laboratorio a un'altra latitudine. Mi metto a un'altra latitudine la forza lì non è parallela alla prima quindi ho fatto una rotazione anche del vettore. Forza di gravità e ripeto. Insomma, posso usare 100 accorgimenti e avere 100 problemi però alla fine posso sempre descrivere una situazione nella quale verifico operativamente l'invarianza o naturalmente potete anche scegliere qualcosa di più semplice potete riflettere i due laboratori cioè mettere tutto specularmente dall'altra parte e diremo che la legge fisica è invariante per riflessione ruotarli e sarà invariante per rotazione. l'abbiamo anche traslato perché c'è il laboratorio e poi c'è il laboratorio accanto che non sta nella stessa posizione e potremmo anche dire che quella legge fisica è invariante per traslazione cioè dipende da quali trasformazioni abbiamo fatto e abbiamo garantito l'invarianza. Questo è un elenco delle trasformazioni di tipo più comune trasformazioni tutte di simmetria qui stiamo rigorosamente trasformazioni di punti è la stessa cosa che dire simmetria abbiamo quelle discrete la riflessione che è una trasformazione ovvia in cui una delle coordinate cambia segno traslazione in cui la greca la greca un disegno ripetitivo la greca è una simmetria di traslazione con una trasformazione di traslazione con un passo costante anche in un cristallo in una cella cristallina fate lo stesso scherzo la rotazione ne abbiamo già parlato nella rotazione ma la rotazione discreta più semplice la potete osservare in un fiore con pochi petali se è regolare girando l'oggetto il fiore i petali si sovrappongono resta identico quasi l'inversione temporale la riflessione del tempo sono esempi ma ci sono anche le trasformazioni continue anche queste sono simmetrie le trasformazioni continue la traslazione infinitesima la rotazione infinitesima e la trasformazione temporale infinitesima trasformazioni continue ora quando noi trasformiamo consideriamo le trasformazioni dei punti per ottenere il nuovo punto noi dobbiamo scrivere un'equazione algebrica lineare nelle coordinate del punto per avere le nuove coordinate del punto la trasformazione implicherà una relazione in uno spazio cartesiano una relazione lineare tra le coordinate quindi se noi n punti li trasportiamo avremo un sistema di n equazioni ovviamente una per ogni punto e avremo e sarà un sistema lineare in queste condizioni e quindi la matrice del sistema è rappresentativa della particolare trasformazione che abbiamo fatto quindi andiamo a cadere pari pari se volete nell'algebra delle matrici a questo punto queste sono due illustrazioni semplici poi riprenderemo magari qualcosa del genere per due oggetti che hanno chiaramente delle proprietà di invarianza per trasformazioni quindi hanno una simmetria sono oggetti con simmetria sono diversi tra loro perché vedete mentre il primo voi potete ruotarlo cinque angoli diversi sovrapponendolo a se stesso quindi ha un asse quinario intorno al quale potete ruotarlo e cinque piani di simmetria intorno a cui potete riflettere ottenendo l'oggetto stesso e sono gli assi che passano per il vertice e per l'aggiunzione tra le foglie nel secondo non potete fare l'operazione di riflessione potete fare soltanto l'operazione di rotazione di sei angoli quindi ha un asse scenario di simmetria e basta e non ha piani di simmetria esempi se ne possono se ne possono trovare tanti per illustrare i vari tipi di trasformazioni e di invarianze per quelle trasformazioni ignorate il titolo abbiamo a che fare semplicemente nel nostro linguaggio abbiamo a che fare con una trasformazione del tipo descritto allora di trasformazioni possiamo farne due potete ruotare quel fiore di due passi e poi ruotarlo di tre e ne avete fatto due trasformazioni e quindi c'è la combinazione tre e due avete ruotato alla fine di cinque quindi è possibile comporre e avere una trasformazione che sia la composizione di due trasformazioni questo potete fare per tutto riflessioni rotazioni quello che vi pare traslazioni in generale però non è un'operazione commutativa negli esempi semplici che si raffigurano in quel modo nel piano è difficile trovare situazioni non commutative e cioè quasi sempre quello che succede è che in effetti o fate prima una trasformazione e poi l'altra la cosa non cambia quindi in molti casi sono commutative ma non lo sono in generale per esempio le rotazioni intorno quindi dove dobbiamo passare nello spazio tridimensionale le rotazioni intorno a due assi diversi non sono commutative quindi in generale non lo sono la composizione però è associativa gode della proprietà associativa questo sì e cioè quella che è descritta qui chiaramente la leggete meglio di me è chiaro che cosa vuol dire è inutile stare a ripeterla esiste poi l'identità cioè un oggetto è sempre vero che coincide con se stesso che è invariante se lo ripetete identico quindi esiste l'identità geometricamente c'è il commento ogni punto è trasformato in se stesso vabbè è banale ma esiste e poi ma qui ci serve questo fatto esiste l'inversa ruotate di tre passi poi c'è la trasformazione con la quale ritornate ritornate ogni volta potete fare questo gioco esiste sempre la possibilità quando non c'è commutazione cubo di rubic soddolori per via della mancanza però è sempre possibile farlo alla fine il cubo di rubic si può sempre ricostruire con santa pazienza e quindi esiste l'inversa che è definita però a questo punto un matematico che guardi questo che fanno le trasformazioni che abbiamo definito dice ma questo non è niente di nuovo questo è qualcosa che è stata definita in algebra da tempo ed è quello che si chiama un gruppo in algebra quindi le simmetrie le trasformazioni di cui parliamo costituiscono un gruppo d'altra parte come costituiscono un gruppo dei gruppi le matrici che le rappresentano quindi abbiamo una struttura di gruppo ben nota in algebra studiata con tanto di teoremi e tutto il resto quindi quella non è una definizione quella è soltanto il fatto che guardando quali sono le proprietà delle trasformazioni di cui parliamo per le simmetrie scopriamo che sono proprio quelle generali astratte dei gruppi in algebra questa invece è una definizione gruppo di invarianza il gruppo di invarianza di quello che vi pare a voi oggetto figura legge fisica quello che vi pare il gruppo di invarianza è l'insieme di tutte le simmetrie che lasciano invariante la figura la legge o quello che volete voi esempi un oggetto simmetrico pensate come oggetto simmetrico per esempio ha una di quelle caratteristiche in modo che sia semplice se no diventa complicato una di quelle facciate di chiesette di campagna belle assolutamente le cattedrali no perché poi se andate a guardare i dettagli non sono mai simmetriche veramente mentre le chiesette di campagna lo sono allora per riflessione c'è una simmetria di speculare di riflessione e quindi il gruppo di invarianza è rappresentato dalla riflessione e naturalmente dall'identità che c'è sempre perché l'identità fa parte di ciò che lascia invariante la figura se prendiamo le figure rappresentate prima ovviamente il gruppo di invarianza della prima figura è di dieci trasformazioni un asse equinario e cinque piani di simmetria significa cinque riflessioni e cinque rotazioni cinque trasformazioni di rotazione e cinque trasformazioni di riflessione un gruppo di invarianza ha dieci elementi la figura di sotto ovviamente ha un gruppo di invarianza di sei composto composto da sei elementi ora qui comincerebbe e non l'ho messo ovviamente un elenco del telefono vero e proprio perché ma perché i cristallografi nello studiare i reticoli cristallini le regolarità dei reticoli naturalmente si sono trovati di fronte a tutte le possibili trasformazioni di traslazione riflessione e rotazione che lasciano invariato l'aspetto del reticolo e hanno dato dei nomi a ognuno dei gruppi di invarianza tipici nelle strutture cristalline per determinarli immediatamente non ci interessano sarebbe un elenco che lascia il tempo che trova che ha delle denominazioni tipiche val solo la pena invece di ricordare nell'elenco un ultimo elemento come esempio di gruppo di invarianza di una sfera perché una sfera è invariante per rotazioni continue intorno a qualunque asse quindi abbiamo infiniti assi abbiamo trasformazioni continue su un numero infinito di assi questo significa che il gruppo di invarianza è infinito questo significa che le matrici che rappresentano i gruppi di invarianza sono infinite e sono tutte le matrici di ordine 3 ortogonali con determinante 1 ed è un insieme infinito di elementi che costituisce il gruppo di invarianza e questo è anche un nome perché è particolarmente studiato si chiama gruppo di lì e c'ha un nome SO3 una curiosità ma non tanto serve soltanto a ricordare che ci stanno situazioni allora in cui c'è continuità e in cui c'è un infinito in gioco ci può essere tranquillamente ora una cosa interessante è questa c'è chi si è esercitato a fare ben più di quello che vi mostro io io mostro solo un paio di cose per vedere come funziona il ragionamento e c'è di capire che nel nostro intuito di situazioni che si verificano nella vita di tutti i giorni sotto i nostri occhi inconsciamente involontariamente noi usiamo la simmetria ma non non ce ne rendiamo conto chiedete un pochino a un ragazzo che cosa succede se prendete un sasso e aprite la mano lo sa il sasso cade lungo la verticale va sul pavimento chiedetegli che succede se ruota col sasso e fa la stessa cosa vi guarderà come se foste un pochino un pochino ritardati insomma che volete che succeda esattamente la stessa cosa dovrà accadere lungo la verticale ma perché è così sicuro qual è la simmetria alla quale siamo abituati che ci dice che questo accadrà allora anche mettiamola sul piano formale il ragazzo non lo farà così in maniera così formale però tutto questo è intuitivo noi siamo abituati al determinismo della meccanica classica cioè al fatto che una volta che la forza sia quella che è il peso dell'oggetto una volta che la posizione è sempre questa è una volta che la velocità con cui il corpo parte è la stessa zero da qui è te deve accadere sempre la stessa cosa la traiettoria deve essere unica è deterministica questo è il determinismo al quale siamo abituati questo significa allora se la volete mettere in termini di simmetrie che qualunque trasformazione che non cambi la forza e o le condizioni iniziali darà sempre la stessa traiettoria ora una trasformazione che consiste in una rotazione intorno alla direzione della forza peso non cambia la forza né in direzione né in modulo né in verso non cambia la posizione l'altezza dal pavimento non cambia la velocità perché parte da fermo risultato la traiettoria deve essere la stessa perché è invariante per queste trasformazioni sia le condizioni iniziali che la forza e qual è l'unica traiettoria la verticale ma potrebbe accadere qualcosa vediamo un po' che cosa potrebbe accadere che fa avvenire meno questo ragionamento la presenza di qualcosa che di una trasformazione di un elemento di una trasformazione che non rispetti le condizioni date di lasciare invarianti condizioni iniziali e forza questo per esempio accade se io vado un po' più sul fine e prendo in considerazione oltre alla forza peso la forza inerziale chiamiamola così la forza apparente che nasce dalla rotazione della terra la forza di Corioli la quale non è diretta lungo il piano verticale parallela al piano orizzontale non è diretta lungo la verticale e ha una direzione precisa quando io ruoto questa forza non ruota non si trasforma restando inalterata rispetto al mio esperimento il risultato è che la traiettoria non è più la verticale la traiettoria diventa lo spostamento verso est nella caduta piccolo una parte su centomila una parte su un milione dipende da quanto è lungo il percorso ridicola ma ho fatto un'operazione che è una rottura di simmetria o abbassato il grado di simmetria del sistema potrà ancora essere invariante per certe riflessioni rispetto al piano che contiene la forza peso e la forza di Corioli del sistema ma non lo è più per rotazioni intorno alla verticale questo potete anche vederlo rottura della simmetria e le sue conseguenze se considerate un quadrato se considerate un quadrato un quadrato ha un asse quaternario di simmetria cioè potete ruotare i lati no? uno ha quattro angoli e piani di riflessione sulle mediane e sulle diagonali quindi avete quattro piani di riflessione e un asse quaternario se trasformate il quadrato in un rettangolo saltano le simmetrie sulle diagonali avete salta l'asse quaternario che diventa asse binario potete solo capovolgere di 180 gradi il rettangolo ma non ruotarlo di 90 gradi non è identico a se stesso e saltano le riflessioni sulle diagonali restano quelle sulle mediane quindi il gruppo di invarianza del rettangolo è diventato più basso di quello che era il gruppo di invarianza del quadrato di un ordine più basso un sottoinsieme le orbite dei pianeti sono traiettorie piane la scoperta dell'acqua calda però l'argomento di simmetria serve al linguaggio l'argomento di simmetria come possiamo usarlo in questo caso ma è semplice allora consideriamo il sole il pianeta il raggio vettore dal sole al pianeta è la velocità del pianeta a un certo istante fotografate la velocità mettetela come vi pare alla fine c'è la retta del raggio vettore la retta su cui giace la velocità comunque sia due rette che si incontrano in un punto definiscono un piano quindi consideriamo questo piano in questo piano c'è anche la forza va bene ora non cambia niente scusate dove stavamo ecco qua ora mettete un sistema di coordinate se vi pare x y in quel piano e z perpendicolare a quel piano cambiando z in meno z non cambia né la forza di attrazione né il vettore velocità che è perpendicolare a z né il raggio vettore che è perpendicolare a z quindi non cambiano né le condizioni iniziali né la forza quindi è invariante per riflessione quindi la traiettoria deve essere invariante per riflessione quindi la traiettoria che è nel piano non può quindi la traiettoria non può essere il filo di lana di un gomitolo di lana deve essere necessariamente nel piano adesso veniamo alla parte in cui il nostro percorso si stringe su un sentiero su un sentiero unico un sentiero che è in parte di matematica in parte di fisica però tenete presente che alla fine questa fu una strada che fu percorsa da Emmy Nader che era un algebrista una matematica su richiesta di Hilbert che aveva i suoi problemi con con le varietà differenziabili lo spazio-tempo e tutto il resto e stabilì un risultato che è importante un tre di unione importante tra quelli che sono dei fondamenti letteralmente della nostra lettura del mondo fisico è ciò che in matematica è il valore della simmetria e delle trasformazioni quindi vediamo un pochino quale questo ponte gettato ormai ricorre l'anniversario nel 1915 ricorre il primo centenario sono stati fatti dei passi avanti da allora ma nel senso dell'estensione alla meccanica quantistica relatività generale teoria dei campi ma l'essenza non è cambiata e l'illustrazione è valida e il risultato è sempre solo che c'è stato un lavoro pauroso di natura matematica per estenderne il campo in altre descrizioni della natura teorema di Neder in soldoni ma adesso vediamo qualcosa di più afferma che se un sistema è invariante quindi usiamo tutto il linguaggio che abbiamo è invariante per una trasformazione continua di simmetria noi abbiamo conosciuto trasformazioni discrete e trasformazioni continue adesso parliamo solo di trasformazioni continue una trasformazione continua di simmetria allora esiste una legge di conservazione per una questo è generico per una corrispondente grandezza fisica cioè per ogni trasformazione continua per la quale c'è invarianza c'è una quantità fisica che è una costante del moto che non cambia la costante per vedere come funziona questo meccanismo dobbiamo necessariamente ricorrere alla trattazione lagrangiana della meccanica ora alcuni di voi probabilmente di meccanica analitica ne sanno molto più di quanto ne sappia io qualcuno invece potrebbe avere minore familiarità con la meccanica analitica non è un problema perché basta concettualmente la cosa si segue benissimo dal punto di vista formale dopo sarà uno scherzo dal punto di vista iniziale che cos'è la trattazione lagrangiana molto semplice almeno concettualmente quindi il discorso si può seguire poco dopo la morte di Newton prima Eulero Euler poi dopo un pochino Lagrange fecero nel seminare sistemi sempre più complessi fecero un'osservazione è un dannato spreco di tempo e fatica spesso lavorare con le coordinate cartesiane perché se voi prendete un pendolo lo appendete qua è vero che siamo nello spazio tridimensionale col pendolo che va avanti e indietro però alla fine l'unica cosa che vi interessa è come cambia l'angolo rispetto alla verticale quindi alla fine alla fin fine tutto quello che veramente ci deve servire è un'equazione per una grandezza l'angolo è inumile che stiamo a sprecare tempo con tre coordinate per poi scoprire che due non servono a niente e c'è solo una coordinata che conta questo accade ogni volta ci siano dei vincoli e non qualcosa che sia libero di muoversi come vuole in tutte le dimensioni se ci sono dei vincoli tanto vale tenerne conto e ridurre subito la dimensionalità del sistema da esaminare questo vedete l'uogo all'introduzione di quelle che si chiamano coordinate generalizzate le coordinate lagrangiane per una particella libera sono x y z le coordinate cartesiane ma per un pendolo è theta l'angolo ce n'è una sola e così via la situazione quindi si semplifica non si complica la seconda cosa è che la derivata temporale a quel punto per una particella libera è la velocità per il pendolo è theta punto dth su dt omega la velocità angolare niente di che quindi abbiamo coordinate e velocità i corrispettivi la funzione lagrangiana l funzione di q è per forza delle coordinate magari delle velocità forse del tempo ma che cos'è beh nei casi semplici la si interpreta immediatamente e basta e avanza per i discorsi che faremo anzi non servirebbe manco questo è la differenza tra energia cinetica e energia potenziale quindi non la somma ma la differenza tra energia cinetica e energia potenziale tutte cose uno sa bene di che si tratta e quell'equazione allora niente quell'equazione è l'equivalente di f uguale ma non dice di più né dice di meno lo dice in maniera più comoda eliminando le cose che non servono per non perdere tempo sostanzialmente è un punto di vista leggermente diverso la sola cosa che bisogna ricordare guardandola è che q è scritto in grassetto come q punto quindi sono diverse coordinate quindi se volete è un vettore con n componenti quante sono i gradi di libertà del sistema e quindi le equazioni lì quella non è un'equazione ma è un sistema di n equazioni una per ogni coordinata q1 q2 q3 qk qn è un sistema non la dobbiamo risolvere non c'è problema dobbiamo andare avanti dopo aver introdotto la grangiana e cominciare col fare una semplice considerazione supponiamo che l non dipenda da qk ecco qua l che è funzione di q q punto e t non dipende da qk da una delle coordinate del vettore da una delle componenti del vettore allora in quella equazione perché queste qui c'è un'equazione per qk c'è l'equazione che dice se d su dt di dl su dq punto k uguale dl su dq k per la k esima componente la derivata di l rispetto alla k esima componente è 0 quindi se io dl su dq punto lo chiamo p deduco che dpk su dt è uguale a 0 e cioè pk è uguale costante ci resterebbe da scoprire chi è pk io vi prego se ci sono delle domande che volete farmi potete interrompermi tranquillamente non c'è problema non me ne risento affatto vi assicuro la derivata la derivata di pk rispetto al tempo è uguale a 0 quindi pk è uguale costante resta da scoprire chi è pk ora se andate a prendere un qualunque caso come quello che vi ho raccontato se volete anche semplicemente la particella libera scoprite subito che pk è la quantità di moto e quindi avete un'affermazione di conservazione della quantità di moto lungo la direzione in cui la lagrangiana l'energia non dipende da quella coordinata allora tiriamo un attimo le somme la lagrangiana non dipende da qk se non dipende da qk è invariante per trasformazioni di qk quindi è simmetrica per tali trasformazioni e la conseguenza è che c'è qualcosa che si conserva pk la cui derivata è uguale a 0 temporale è uguale a 0 finora ci siamo ma ancora non siamo arrivati al punto per farlo dobbiamo necessariamente introdurre una seconda grandezza questa grandezza è l'integrale nel tempo di quella funzione lagrangiana l'integrale nel tempo della funzione lagrangiana funzione di q q punto e t in generale guardate che tenete presente che le q e le q punto ovviamente sono funzioni del tempo quindi il problema è la dipendenza l'eventuale dipendenza esplicita dal tempo della lagrangiana in un sistema in un sistema reale voi avete la dipendenza esplicita dal tempo quando per esempio applicate al sistema una forza dipendente dal tempo va bene poi è ovvio che altrimenti comunque q e q punto sono funzioni del tempo allora questo è l'integrale dell'azione detto l'integrale dell'azione ecco qui parte davvero il una non proprio dimostrazione il discorso del teorema di nether almeno nell'approccio più semplice consideriamo le perturbazioni le azioni le piccole azioni che lasciano invariante quell'integrale e cioè immaginiamo che t sia trasformato il tempo sia trasformato con un piccolo delta t in aggiunta e q siano trasformate con una piccola variazione immaginiamo sono sempre dei vettori ovviamente e immaginiamo che ci siano diverse trasformazioni per le quali l'integrale resta invariato quell'integrale resta invariato questa è la condizione allora se noi le applichiamo tutte insieme cioè se noi applichiamo le perturbazioni tutte insieme e quindi applichiamo le trasformazioni tutte insieme ci sarà una trasformazione risultante che è la somma di tutte le trasformazioni la composizione di tutte le trasformazioni che è in questo caso nient'altro che la somma di tutte le trasformazioni e quindi possiamo scrivere la somma di tutte le piccole epsilon piccole r un indice generico che va da 1 a n a n grande contributi a delta t e dei contributi a delta q chi sono tr e q r tr e q r sono funzioni arbitrarie non totalmente arbitrarie sono tutte le funzioni che vi pare a voi arbitrarie in questo senso che però provochino delle trasformazioni tali che quell'integrale non varia dopodiché ci potete mettere quello che volete purché non facciate variare l'integrale bene quello che nether ha dimostrato è che sotto queste ipotesi piccole perturbazioni con trasformazioni che lasciano invariato l'integrale dell'azione allora ecco questo è l'enunciato del teorema vero e proprio allora la quantità qui descritta nell'ultima riga e che non leggo neanche è una costante del moto una n perché ci stanno n valori per l'indice r n grandi valori per l'indice r quindi ci stanno se ci sono n grandi trasformazioni che fanno questo scherzo ci stanno n grandi costanti del moto andiamo a caccia di qualcuna di queste costanti anzi andiamo a caccia delle tre più importanti e sarà la cosa più semplice perché come si usa nella dimostrazione dei teoremi qua ci stanno n perturbazioni n trasformazioni n coordinate generalizzate su un sistema complicato quando volete perché il risultato deve valere in ogni caso poi in effetti possiamo vedere che sui mattoni fondamentali il gioco è molto semplice si riduce a niente si riduce a un'equazione invarianza temporale cominciamo dal tempo se la lagrangiana non dipende esplicitamente dal tempo quindi non avete una forza esterna dipendente dal tempo per esempio una forza periodica esterna come un oscillatore forzato o qualcosa del genere perché questo vorrei ricordarmi dirlo tra un attimo perché sto citando questo caso va bene se la lagrangiana non dipende esplicitamente dal tempo cioè è invariante se io cambio t in t più epsilon semplicemente perché non dipende da t allora la piccola variazione temporale la chiamo epsilon e basta t mi va bene uguale a 1 se confronto con l'espressione precedente n è uguale a 1 sto considerando una trasformazione con una perturbazione non c'è cambiamento delle coordinate nessuna trasformazione quindi q grande è uguale a 0 e allora se vado qui a sostituire metto q uguale a 0 il secondo termine sparisce tr uguale a 1 tutto quello che mi resta è che quella roba tra parentesi è costante ma cosa è quella roba tra parentesi che diventa costante quella è l'emiltoniana cioè quella che si dimostra essere se scrivete se vi date la pena di scrivere invece di l t-u energia cinetica meno energia potenziale e scrivete le derivate vedete che h è nient'altro che t più u è l'energia totale del sistema quindi l'energia totale del sistema è costante ecco perché ecco perché non voglio la dipendenza temporale in questo discorso esplicita perché se io metto una forza dipendente dal tempo fa un lavoro sul sistema se fa un lavoro sul sistema aggiunge energia o sottrae energia al sistema l'emiltoniana non può essere costante se invece non c'è dipendenza esplicita dal tempo l'emiltoniana è una costante del moto allora sostanzialmente la conservazione dell'energia è vista come come un effetto della invarianza rispetto a una trasformazione temporale cioè come un problema di simmetria invarianza per traslazione se se la lagrangiana non dipende da una coordinata qk tornate dietro e guardate l'effetto se non dipende da una particolare qk allora aspettate prendiamo un momento allora la trasformazione semplicemente consiste nell'aggiungere a qk un epsilon in più ma non dipende comunque da questa trasformazione abbiamo detto quindi è una sola perturbazione n uguale a 1 il tempo lo lasciamo inalterato quindi niente trasformazione temporale t grande uguale a 0 qk l'abbiamo già messo uguale a 1 quando abbiamo scritto qk più epsilon e come se in quell'espressione avessimo scritto qk uguale a 1 e allora se andiamo a riprendere l'espressione t r uguale a 0 qr uguale a 1 dell su dq uguale costante ma chi è? madelle su dq punto è la quantità di moto provare per credere sempre con la solita lagrangiana scema è nient'altro che la quantità di moto quindi la quantità di moto è costante allora cosa vuol dire questo? vuol dire che noi stiamo facendo stiamo prendendo stiamo facendo dipendere la validità l'esistenza della prima parte almeno del terzo principio della dinamica conservazione della quantità di moto da una proprietà di trasformazione va bene che ci dice che non devono cambiare che è una cosa importante l'integrale dell'azione le leggi fisiche diciamo in generale non devono cambiare se io faccio una trasformazione della coordinata continua vale a dire se io prendo uno di quegli oggettini che stanno disegnati anche sui libri una pallina attaccata a una molla un supporto lo faccio oscillare avanti e indietro sul tavolo senza attrito e misuro tutto quello che mi va di misurare e poi mi sposto un po' più avanti e ripeto e poi un po' più avanti e ripeto cioè continuo a traslare una coordinata io dico che la legge fisica non dipende dalla traslazione se questa trasformazione che sto facendo non cambia i risultati effettivamente non li cambia ma la conseguenza allora è la conservazione della quantità di moto cioè stiamo legando la conservazione della quantità di moto a una proprietà di traslazione nello spazio stiamo dicendo che se io trasporto il mio laboratorio in un'altra posizione non cambia niente e questo è ciò che determina la conservazione della quantità di moto l'ultimo caso è l'invarianza per rotazione se la lagrangiana non cambia per una piccola per effetto di una piccola rotazione delta teta intorno a un'asse un'asse che qui chiamo n va bene i punti subiscono una trasformazione che è facile da calcolare si può rappresentare vettorialmente semplicemente e cioè il nuovo punto se faccio una rotazione teta di un punto che è a distanza r dall'asse delta teta per r se li mettete tutti in un piano verticale eccetera in un piano perpendicolare all'asse il gioco è semplice si fa occhio state semplicemente muovendo su una circonferenza un punto facendo ruotare un punto su una circonferenza che taglia l'asse passante per il centro e quindi l'angolo in radianti lo spostamento per l'angolo da semplicemente la variazione del vettore spostamento è la variazione del vettore spostamento per rotazione t è uguale a 0 perché il tempo non cambia allora uno torna indietro va a rifare lo stesso scherzo che abbiamo fatto prima non riprendo la figura per far vedere che succede ma potete riprendere quella diapositiva e quello che succede è che qui c'è la sequenza dei passaggi dopo aver scritto t uguale a 0 il primo pezzo tra parentesi va a 0 resta l su dq punto per qr q sappiamo chi è perché lo si vede qua vedete in questa trasformazione questo è delta teta e questo è il qr relativo eccolo qua delta teta fa le funzioni di epsilon r e qt in questo caso dove sta ecco qua e qt è n vettore r tutta roba che lascia invariata la lagrangiana è l'integrale dell'azione prodotto scalare prodotto misto scalare vettoriale inversione bla bla e alla fine il risultato è semplice n scalarelle è la costante del moto ma questo l non è la lagrangiana questo l è r vettor p cioè il momento angolare quindi la componente del momento angolare sull'asse di rotazione è una costante del moto quindi stiamo legando la seconda parte del terzo principio della dinamica la conservazione del momento angolare alla invarianza alle trasformazioni per le quali è invariante la legge fisica per rotazione alle trasformazioni di rotazione quindi alle simmetrie di rotazione per le quali è invariante la legge fisica la lagrangiana nel nostro caso e allora alla fine siamo arrivati alla conclusione che l'isotropia della parte di universo in cui viviamo l'isotropia e l'isotropia equivale ad affermare che le direzioni sono tra loro tutte equivalenti quindi che una variazione delle direzioni dei miei esperimenti non darà risultato diverso quindi l'isotropia spaziale è responsabile mettiamola così della conservazione del momento angolare mentre l'omogeneità spaziale e cioè il fatto che io avanzando nello spazio almeno nell'angolo di universo che abbiamo sotto controllo non faccia cambiare le leggi fisiche quindi l'invarianza traslazionale è responsabile si fa per dire della conservazione della 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 quantità di moto o se volete ci siamo accorti soltanto dopo il teorema di nether che quando enunciamo delle leggi di conservazione stiamo equivalentemente dicendo che ci sono delle proprietà di isotropia e di omogeneità dello spazio che ci risultano verificate per cui un modello matematico che le assuma queste proprietà come vere e le introduca nella rappresentazione della realtà attraverso trasformazioni discrete e continue e gruppi di simmetria è una descrizione adeguata la cosa viene confermata nell'estensione che di questo è stato fatto alla meccanica quantistica alla relatività generale alla teoria dei campi dove però l'apparato matematico che viene richiesto per convincersi che il teorema di nether è sempre valido ovviamente diventa molto più impegnativo però conferma conferma sostanzialmente questo e cioè il nesso poi tutto sommato tra leggi di conservazione e proprietà simmetriche di simmetria di trasformazione o di simmetria dello spazio-tempo resta affermato per quello che ne sappiamo in questo angolo di spazio per qualunque teoria fisica per qualunque interpretazione della realtà che noi riusciamo a dare la mia conversazione non era più che tanto è terminata di spazio-tempo di spazio-tempo di spazio-tempo di spazio-tempo di spazio-tempo di spazio-tempo di spazio-tempo